Attimi di preoccupazione e di apprezzione questa mattina a Battipaglia, dove un anziano è stato investito in via Belvedere ed una prima ricostruzione dei fatti, pare che la persona fosse nei pressi della fermata dell'autobus. Per fortuna la macchina dei soccorsi si è subito messa in moto e il pedone è stato trasportato in ospedale per le cure del caso. Il ferito sarebbe stato spostato da un mezzo mentre si trovava nei pressi della fermata dell'autobus. Sono stati i presenti e i passanti che hanno prontamente chiesto aiuto lanciando l'allarme. In pochi minuti sul posto è giunta un'ambulanza della misericordia. I sanitari hanno prestato i primi soccorsi sul posto all'anziano, poi adagiato sul mezzo di soccorso. L'hanno trasportato verso il vicino ospedale Santa Maria della Speranza, dove è stato condotto nel pronto soccorso e sottoposto a cure ed esami radiografici. I sanitari hanno prestato i primi soccorsi sul posto all'anziano, poi adagiato sul mezzo di soccorso. L'hanno trasportato verso il vicino ospedale Santa Maria della Speranza, dove è stato condotto nel pronto soccorso e sottoposto a cure ed esami. radiografici. Nelle prossime ore i sanitari verificheranno la prognosi. Adesso spetta le forze dell'ordine ricostruire l'esatta dinamica dei fatti.